Carissimi, come state? Bene, grazie. Emozionato. Stamattina è bene, emozionati, felici, gratificati. Io sono un eroe stamane. Tu sei un eroe stamane. È il risultato del film. Mi sono svegliato eroe. Per la prima volta in vita mia. Veramente. Tanto ti dico questo, che il film l'ho visto in lingua originale e quindi ho apprezzato notevolmente la tua recitazione in francese. Ma no, ma grazie. Grazie perché questa cosa... A parte, vabbè, e Alessandro abbiamo fino adesso parlato di questa cosa. Giustamente lui dice che il mio francese... Ma lo riconosco anch'io, che non è un francese. Perché per i francesi sono un signore di Liegi. Per quelli di Liegi sono un algerino. Per gli algerini sono un marsigliese. Franchi non italiani. No, è simpatica questa. È stato un lavoro difficilissimo. Certo. È stato il lavoro più difficile della mia vita e credo sia stato il più bello, il più profondo. Ho imparato tantissimo. Ok. Alessandro, l'origine del soggetto, da dove arriva? E se Bruxelles era già inclusa? Allora, diciamo inizialmente Bruxelles non era inclusa. Non era inclusa ma perché quando ti affasci ad un'opera prima, io vengo da un'esperienza nell'ambiente legata sempre al reparto regia, però d'aiuto regista. E quindi molte volte ho lavorato con dei registi che si approcciavano all'opera prima e quindi erano anche un po' loro stessi a frenarsi nel cercare di raccontare certi film proprio per questioni anche produttive. Perché un'opera prima è sempre molto delicata da questo punto di vista. Quindi comunque inizialmente l'idea era ambientata in Italia. Poi lavorando alla storia insieme a Davide Orsini ci siamo accorti di una cosa fondamentale, e cioè se l'intenzione era quella di fare un film il più realistico possibile e quindi di legarsi, diciamo, non a fatti di cronaca diretti, però alla cronaca, quindi a quello che in quel momento si stava vivendo purtroppo, non potevamo allontanarci da quello che era il cuore dell'Europa, da quello che era fondamentalmente un po' il paese maggiormente segnato, oltre alla Francia, da questi avvenimenti. E devo dire grazie anche all'aiuto e al coraggio di Notorious siamo riusciti a rendere vero il film e quindi ad ambientarlo in un paese che è il Belgio, a raccontarlo in una lingua che è il francese e quindi a dargli quella verità di cui aveva bisogno. Non è esclusivamente ambientato all'interno dell'ambulanza, però il cuore pulsante è lì. E quei tre personaggi all'interno dell'ambulanza hanno tre etnie diverse, insomma, hanno tre origini diverse. Quindi mi domando come abbiate vissuto voi tutta questa esperienza a Bruxelles in un contesto che presumo fosse simile, con molte persone di origini e etnie diverse. Beh, Di Mio, mi permetto, intanto rispondo io, Di Mio per me è stato meraviglioso, nel senso incontrare teste e anime diverse è stato stimolante. È stato stimolante nella preparazione del film, quindi con tutti i collaboratori, che poi sono stati i collaboratori belga, e poi è stato stimolante anche a raccontare tre personaggi diversi all'interno dell'ambulanza. il ragazzino di origini marocchine, Adamo di origini italiane, trasferito in Belgio da due anni, Clotilde belga, quindi diciamo una donna nata e cresciuta in Belgio. Quindi raccontare queste tre anime era un po' come voler mettere a confronto tre tipi di vite diverse, ma soprattutto di vite diverse che si trovano a vivere una situazione comune, terribilmente comune insieme, a dover lottare per la loro vita e a lottare per cercare di far capire anche un po' a questo ragazzo che in quel momento sta vivendo una dimensione surreale nella sua vita, cercare di far capire che la vita non è questo, cioè capire che l'adolescenza l'abbiamo vissuta tutti, che siamo stati tutti dei ragazzi, siamo stati tutti arrabbiati nei confronti del mondo, ma questa rabbia deve essere incanalata non nell'estremismo, non in qualcosa di violento. La tua esperienza sul set, com'è stata, Adamo? Ripeto, io da stamane lo dico, è stato il film più difficile della mia vita, non ho mai guardato negli occhi Clot, la M io non l'ho mai vista, con me non l'ho mai visto a donna, si è creata questa simbiosi meravigliosa anche grazie a tutta la squadra, alla preparazione che c'è stata, però poi fondamentalmente lavoriamo dentro un'ambulanza, quindi se io alzo gli occhi per guardare lo specchietto, stiamo facendo il cinema, lo specchietto non c'è, quindi vado a vedere il cielo, gli alberi, i palazzi, ma sto parlando con Clot. Stessa cosa con Adon, perché quando mi diceva bene che c'era lo specchietto, dall'altra parte vedevo quel genio di Benoit con tutta la sua squadra di fotografie, io non lo so da dove vengono, questi sono dei maghi incredibili, e quindi non ho mai visto la protagonista negli occhi, noi attori ci dobbiamo guardare, è stato un lavoro difficilissimo, incredibile, sono proprio, come dire, sono anche sbalordito di quello che sono riuscito a fare, sono molto grato ad Alessandro, ma alla nostra amicizia soprattutto, sono grato perché ci conosciamo da un sacco di tempo, sapevo benissimo quello che voleva fare, io lo ripeto da stamattina, signore Alessandro fa il cinema, io sono felice di aver fatto questo film con lui, Grazie mille in bocca al lupo! Grazie, viva il lupo!